Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale, consueto e totale della mia libreria con un video dedicato a uno dei mezzi corazzati simbolo della prima parte della seconda guerra mondiale. Parliamo infatti quest'oggi, finalmente, dopo tanto tempo, dopo tanto tanto tempo, parliamo finalmente, finalmente del Infantry Tank Mark II, il carro d'affanteria numero 2, Matilda. Signore e signori, vi presento la regina del deserto. Il simbolo, il carro armato simbolo delle forze corazzate britanniche per i primi due anni di guerra. Il Matilda, il leggendario Matilda, la regina del deserto, un carro che ha fatto veramente molto più del suo dovere, un carro che pur non essendo eccezionale ha fatto la storia e ha fatto anche scuola. Allora, la fonte che uso come riferimento è il secondo volume della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, edizioni Curce, la scheda tecnica del Matilda. Allora, signori, il discorso è sempre il solito. Un libro, per quanto vecchio, per quanto datato, per quanto a volte anche superato, se riporta i dati tecnici di un mezzo meccanico, nella fattispecie lui, il Matildone, il bestione, eccolo qui, quelli non cambiano di sicuro, come dico sempre. Quindi, parliamo, in questo video, parliamo della regina del deserto, parliamo del Matilda, ok? Praticamente, il discorso è questo qua. Durante la seconda guerra mondiale, il regio esercito italiano usava come pezzo anticarro e di accompagnamento a livello di divisione, il cannone da 4732, un eccellente pezzo di accompagnamento per l'affanteria che poteva essere usato sia in funzione anticarro che in funzione di accompagnamento per l'affanteria. Era un progetto di origine austriaca, della Böhler per la precisione, veniva soprannominato per la sua forma, veniva soprannominato l'elefantino, ok? L'arma era molto, era eccellente per l'epoca e poteva perforare una corazza di 35 mm, di 35 mm a 700 metri. Nel 1940, essendo aumentata la protezione dei corazzati in servizio, le sue prestazioni non furono più all'altezza e anche se ancora qualcosa poteva fare contro i carri nemici. Ma la sorpresa per i nostri artiglieri, mettiamola così, nel 1940 per i nostri artiglieri, per gli artiglieri che avevano i 4732, che erano universalmente considerati tra i migliori pezzi anticarro dell'epoca, ha ragione perché l'elefantino era, nei primi anni di guerra, diciamo nel 39-40, l'elefantino era indubbiamente uno dei migliori pezzi anticarro dell'epoca, dicevo, ci si può immaginare la sorpresa dei nostri soldati che per primi videro entrare in azione i nuovi carri inglesi Mark II in Africa settentrionale. Allora, sui Matilda, che questo era il soprannome del Mark II, i proiettili anticarro italiani non avevano modo di far danno perché rimbalzavano letteralmente sulla poderosa corazza anteriore di ben 80 mm di spessore. Nel progettare questo mezzo gli inglesi si erano rifatti ai concetti strategici della prima guerra mondiale che prevedevano il carro totalmente asservito al fante e alla sua difesa. L'evoluzione della strategia sull'impiego dei corazzati dimostrerà in seguito che il binomio carro-fante va impiegato in senso diametralmente opposto. La scarsa velocità e la ridotta autonomia sacrificate in favore della massiccia protezione saranno le principali pecche di questo carro. Ebbene sì, protetto, estremamente ben protetto ma anche estremamente lento e con una autonomia non eccezionale. La sua struttura presentava invece una novità, ovvero sia l'assenza del telaio. Le piastre corazzate e gli elementi di carrozzeria non erano infatti montati su uno scheletro ma direttamente imbullonati fra di loro in modo da formare un involucro molto 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 robusto. E c'è da dire che comunque sia il Matilda aveva questa concezione risalente alla prima guerra mondiale e questo fu il suo principale limite. Allora dicevo, la torretta e la prua dello scafo erano ricavate per fusione. L'armamento prevedeva un pezzo da 40 mm, il due libre, oltre ad una mitragliatrice e ad un fucile mitragliatore per il tiro contraereo montato sul cielo della torretta stessa. Nel complesso, se vogliamo fare un interessante raffronto, si potrebbe osservare che alcuni carri dell'asse erano più veloci e meglio armati del Matilda, ma ai pezzi più potenti, cioè il 47 mm italiano e il 50 mm tedesco, non corrispondevano delle protezioni altrettanto valide. La miglior corazzatura italiana era di 47 mm, quella tedesca di 50 e potevano essere perforate dai colpi del 40 mm britannico, mentre i nostri pezzi poco potevano contro questo grosso, lento e apparentemente inarrestabile pachiderma. Si riuscirà in seguito ad aver ragione di lui solo usando pezzi anticarro ad alta velocità iniziale, come il PAC 38 da 50 mm o il celebre 88, la bestia nera di tutti i carri armati alleati, indubbiamente. Per quanto riguarda il curriculum del Matilda, dopo un primo impiego in Francia nel 1939, combatterà in Africa settentrionale fino al 1942. Verrà poi impiegato in Guinea dalle truppe australiane ed equipaggiato con speciali carburatori per il funzionamento alle basse temperature per le forniture destinate alle truppe corazzate dell'armata rossa. Queste, infatti, per compensare le gravi perdite del primo periodo di guerra, riceveranno dall'Inghilterra 7.000 carri di vario tipo, ma ne arriveranno soltanto 4.260, 7.056 dall'America con 5.288 carri arrivati e 1.380 dal Canada, ne arrivarono 1.188, oltre a molte decine di migliaia di autoveicoli, autoblindo e semi cingolati. Ma questo è il discorso dei famosi aiuti del programma Land Lease per gli aiuti all'Unione Sovietica. C'è da dire una cosa, nonostante i suoi difetti, ripeto, lentezza, scarsa autonomia, un armamento non esuberante, indubbiamente, e un peso eccessivo per la potenza del motore. Il Matilda fu estremamente apprezzato dai carristi sovietici, perché come carro appoggio alla fanteria aveva la sua validità. E Stalin, in alcune occasioni, in occasione dei suoi incontri con Churchill, ne chiese ancora diversi esemplari, perché le truppe corazzate russe seppero usare molto bene il Matilda, nonostante i suoi innegabili difetti. La concezione antiquata, verissimo, la lentezza, verissimo, l'autonomia relativamente scarsa, ancor più vero. Ma al contempo c'era da dire che come mezzo d'appoggio per la fanteria oggettivamente funzionava molto bene. Il grave difetto del cannone da 40 mm che sparava soltanto proiettili perforanti pieni, quasi inutili, praticamente quasi inutili contro la fanteria piedata o, diciamo, contro bersagli poco protetti, non aveva granate esplosive, il pezzo da 40 mm. Ma, ripeto, usato bene, usato nel modo giusto, seppe farsi valere fino al 1943 in mano sovietica. In mano, diciamo, che dopo le prove, se vogliamo, non esaltanti fornite dai Matilda in Africa settentrionale, fu ritirato dal servizio, destinato in patria all'addestramento o al presidio locale e sostituito dai mezzi americani come l'M3 Stewart, lo Honey, il Lee, l'M3 Grant, il Lee, oppure ovviamente lo Sherman, che era tutta un'altra cosa, se vogliamo, che era un carro armato di concezione sicuramente più moderna rispetto al Matilda. Insomma, il Matilda, il mito del Matilda, se vogliamo, era dovuto essenzialmente al fatto che era un osso dannatamente duro da rodere. Difatti, come già spiegato nella scheda tecnica che vi ho letto, poteva essere fermato soltanto dagli 88 mm o dai 50 mm ad alta velocità. Ma c'è da dire che era un carro non esaltante in quanto a prestazioni, perché, insomma, circa 27 tonnellate di peso, lungo 5,60 m, largo 2,60 m, alto 2,44 m, con una protezione anteriore, con una corazzatura anteriore massima di 80 millimetri, mosso da due motori AEC, AA 183-184 da 87 cavalli ciascuno, con una velocità massima di 24 km orari, un'autonomia su strada di 250 km orari e fuoristrada di 125, 4 uomini di equipaggio, il cannone da 40 mm, il due libre come armamento principale con 93 colpi in dotazione, una mitragliatrice da 7, una mitragliatrice besa da 7,92 con circa 3.000 colpi e 600 colpi per la mitragliatrice antiaerea da 7,7. Superava una trincea di 2,15 m, un gradino di 61 cm e una pendenza del 24% e un guado di un metro esatto. Insomma, un carro armato, ripeto, sicuramente non esaltante per velocità e prestazioni, ma che era rustico, efficiente, necessitava di una manutenzione accurata, ma quello era un difetto tipico di tutti i carri britannici dell'epoca e, ripeto, aveva il problema di essere armato solo con un 40 mm che non poteva certo controbattere i cannoni da 88. Inoltre, ripeto, c'era il problema che il cannone inglese da 40 mm sparava soltanto proiettili perforanti con una conseguente, se vogliamo, difficoltà a fornire l'adeguato e giusto supporto alle truppe che doveva proteggere. Però, ripeto, fece la sua onesta parte in guerra, si meritò il nome di regina del deserto, anche se oggettivamente nel deserto qualche problema lo ebbe perché faceva una fatica dannata a trascinarsi in condizioni estreme. Ricordiamoci che durante l'operazione Compass, alla fine dell'operazione Compass, gli inglesi erano rimasti, se no, con una decina di Matilda efficienti. Eh, sì, perché le condizioni operative del deserto avevano logorato pesantemente gli organi meccanici dei Matilda, gli organi meccanici di questo carro armato, che logicamente si trovò in difficoltà perché, come dire, costruito per operare nei teatri europei c'è una certa differenza a dover fare la guerra nel deserto, ma seppe farsi valere e fu sconfitto soltanto, in pratica, dalle superiori prestazioni dei cannoni anticarro tedeschi. Gli italiani avevano ideato un sistema estremamente coraggioso per beccare il Matilda. Praticamente aspettavano che il Matilda, o con l'elefantino o con l'obice sommeggiabile da 65-17, cosa facevano i nostri artiglieri? Aspettavano che il Matilda, diciamo, passasse la collina, mostrasse il ventre vulnerabile e lo sparavano centrando nel ventre, insomma, superava il crinale delle dune o mostrava la pancia in determinate condizioni operative. I nostri artiglieri, a questa maniera, riuscirono a conseguire alcuni successi, ma basti dire una cosa, indubbiamente dimostra veramente le palle quadre dei nostri artiglieri, perché, insomma, signori, ce ne vuole veramente di coraggio ad attuare una tattica simile. Per il resto, il Matilda, ripeto, aveva i suoi pregi, aveva i suoi difetti, fece la sua onesta parte in guerra, fu battuto soltanto dalla maggiore efficienza degli anticarro britannici. Poi andò in meritata pensione, continuò a servire in Estremo Oriente, perché, diciamo, un carro così, se era condannato a fare una brutta fine di fronte a Tigre, Panther o Panzer IV col 75 mm lungo, contro i modesti carri armati giapponesi, ancora poteva fare e dire la sua. Ripeto, un mezzo che aveva i suoi difetti, ripetiamo, scarsa potenza, eccessivo peso, armamento dotato solo di munizionamento perforante, però per il resto era un carro armato onesto, un carro armato efficace, un carro armato che, usato bene, seppe fare il suo mestiere, seppe fare il suo dovere. Ripeto, persino i russi lo apprezzavano, ne apprezzavano le qualità, anche se oggettivamente anche loro avrebbero voluto un armamento più potente e soprattutto un armamento che non fosse limitato ai soli proiettili perforanti. E qui chiedo aiuto a voi, vado a memoria, se non sbaglio, alcuni Matilda furono modificati per usare, per montare in torretta, pezzi d'artiglieria sovietici. E qui chiedo aiuto a voi, cari signori, ne sapete niente, io vado a memoria, ho letto qualche cosa, ma non mi vorrei sbagliare, anche perché si tratta di cose di tanti 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 anni fa e quindi la memoria potrebbe tradirmi. Sbaglio? Cioè, cercate di aiutarmi voi. I sovietici hanno montato o no dei loro pezzi di artiglieria sullo scafo nella torretta dei Matilda che gli erano stati forniti? La domanda è questa. Quindi aspetto le vostre risposte, come sempre aspetto le vostre considerazioni. La regina del deserto si congeda da noi, ci saluta e vi dà arrivederci al mio prossimo video. E come sempre, cari signori, ciao!